L'incidente sulla circonvallazione di Quarnier oggi, martedì 18 dicembre, poco prima delle 15. Una Citroen C-3, condotta da una donna di 62 anni, ha tamponato una forfiesta con a bordo un uomo di 58 anni, che era ferma con le quattro frecce. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Quarnier per i rilievi, i lesi, i conducenti. Grazie a tutti.